Partito Ok, aspetta Mi ha salito, mi ha guadagnato, mi ha guadagnato Ok, aspetta Mi ha salito Mi ha salito E' eccoci E' eccoci Lo facciamo Lo facciamo E' eccoci E' eccoci E' eccoci E' eccoci E' eccoci Noi Adesso gireremo e? Daniele. Daniele eravamo un'azio con difficoltà però abbiamo fatto la quota sufficiente per fare il nostro giro. Com'è volare Daniele? Stupendo. Così è tutta un'altra cosa, senza motore che ti dà fastidio. Eh, ho detto. Io ho pure il paramotore però non ci vado mai. Perché la termica è la termica. Eh, ma devi sapere pure le... Eh, vabbè, vabbè. Sì, ha il vermanico per farlo. Eh, ma il vermanico lo deviare, non lo deviare, non lo deviare, non lo deviare, ma buttiamoci lì, vai che è finita. Ci ha buttato ancora, guarda che brutto però, ci ha buttato. Guarda, guarda un po'. Ah, adesso ve la riprendiamo. Uh! E che è la molla? Questa è una demo proprio molla, oh. Questa è proprio l'ultima bolla della giornata, questa praticamente si è la gestita al... 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 come si chiama? A spesi di norma. Vai! Vai! Su! Go! Andiamo di persa. Allora, la demo gira a sinistra. Eh, mi stai a dire. La demo gira a sinistra. YAHOO! Woo! Ah, bè! un po' de relax un'altra tecnica ma questo a terra questo lì che è entrato adesso il picotto, quello lì azzarda, no? non c'è la quota per entrare un altro bel valore dai 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 vai dai 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 lì, non è buon bollè non è solo guarda, ma greta non c'è altro lì, non l'intero un po' lì l'interno che cosa stiamo? 712 812 812 812 812 812 812 912 1012 1113 1113 11 12 12 13 14 15 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 per tutti eh, cioè noi siamo i più, i stratosperi, i posti proprio solo noi, a sta quota, tutti gli altri monoposti che magari sono dei più efficienti, si però. C'hanno la metà del carico? Eh si, mi è venuto il bicicletto oggi, ho girato troppo a destra. Bene, salutiamo, ciao a tutti, ciao ragazzi, ci rimuoviamo all'atterraggio, ancora siamo avanti ma tra un po' atterriamo. Chiudo? Si lascia, faccio io. Vai che bardamo.